Per molti questo è solo il piazzale dello stadio comunale di Arizzo. In realtà dal 2007 si chiama piazzale Roberto Lorentini in ricordo di una delle due vittime rettine della tragedia che 32 anni fa si consumò alla Isel. Andrea, il figlio di Roberto, porta avanti con l'associazione delle vittime una battaglia di memoria ma anche di educazione rivolta soprattutto alle giovani generazioni. Bisogna fare memoria di quello che è accaduto ma allo stesso tempo educare i giovani ad uno sport, a un tifo che sia sano e corretto soprattutto dal nostro punto di vista stiamo contribuendo a trasmettere quelli che sono i valori positivi e sani dello sport e lo facciamo soprattutto andando in giro per le scuole, in giro per l'Italia, un lavoro comunque faticoso, magari anche lontano dai riflettori perché è giusto così anche se poi quando ci avviciniamo alla ricorrenza i riflettori nuovamente si accendono però noi lo facciamo tutto l'anno e costantemente. Anche perché poi siamo al termine di una stagione in cui purtroppo si sono orificati altri episodi come quello di Firenze dove ancora una volta si offende la memoria. Purtroppo sì, è accaduto anche quest'anno, è accaduto anche in maniera molto grave addirittura con dei cartelli messi fuori dallo stadio e organizzati in maniera quasi scientifica e noi avevamo chiesto anche una presa di posizione forte da parte della proprietà della Fiorentina. Questa non c'è stata, al di là poi di un comunicato di scuse, come dire, di circostanza, almeno così noi l'abbiamo interpretato. È una battaglia dura perché purtroppo si torna a quello che dicevo prima, non c'è cultura sportiva a livello calcistico in questo paese ancora a un livello accettabile perché si utilizza magari persone che sono morte, ma questo vale per chi offende la Juventus piuttosto che non solo le vittime delle Iselle, le vittime di Superga, comunque in generale le morti del calcio per offendere l'avversario invece che tifare e fermarsi ad un semplice sfotto. Ecco perché si torna a quello che dicevo prima, che almeno è il nostro impegno, lavorare sui giovani in giro per l'Italia nelle scuole proprio perché poi questi ragazzi quando vanno allo stadio non si rendono protagonisti di queste situazioni che sono assolutamente vergognose e incivili.